Ehi, cos'è stato? 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 Forza! Mi farà guadagnare tempo. Ehi, Anna. È da un po' di tempo che non parliamo. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non che avessi altra scelta, la richiesta era una pura formalità. Ma devi sapere che per tutti questi anni ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... Ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Era questo il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Mi hanno chiesto di uccidere il contrabbandiere. Non ucciderò l'unica persona qui dentro che può comprendere il peso della mia scelta. Forse... Lui potrà perdonarmi. Oh, quanto mi manchi, Anna. Tua figlia ti raggiungerà presto. Sì, santo santo. Dottore. Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Schiposo animale. Ti prego. Forza, piccola. Ti tengo. Ti tengo. Umberta. Torna indietro. Umberta. Ti porto via da qui, piccola. Ti ho preso. Ti ho preso. Andiamo. Ti ho preso. Ti ho preso. Ti ho preso. È tutto ok? È tutto ok? È tutto ok? Ti ho preso. Stacca, ora! Ce l'ho venuto. Ho detto indietro! Non sparare! Dai, dai. Fermo! Non puoi salvarla. anche se la porti via e poi quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascoltà. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Ericso o Ma... ma che cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni. A dozzini addirittura. E non ha servito proprio a niente. Hanno anche... Hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Aspetta... Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti.